C'era una volta un pover'uomo che aveva quattro figli. Sono addolorato. Una persona così forte e battagliera. Forse dovremmo organizzare lo stesso il funerale. No. Vuoi farlo incazzare anche da morto? Non c'è nessuno che decide per noi. Questo è solo un modo che abbiamo di scaricarci la coscienza. Uno, due, tre, quattro... Guarda, 900 metri quadrati a 10 minuti dal centro. Ma non siamo pronti per un salto del genere. Una situazione patrimoniale non è quella che aspettavo. Io non ho più soldi. Ti ho buttato per le tue pellicce, le tue creme, i tuoi trattamenti. Cinque, sei, sette... Sono i prezzi! I debiti si pagano. Va bene? Va bene? Otto, nove, chiesi... Scusi, ma allora dov'è finita la liquidità? Gira e rigira quello che vi resta è questa proprietà. Che bastardo. A me quei soldi seguono. Quindi? Una battuta di caccia. Chi prende la prada più grossa si tiene tutto. Oh no! Che c'è? Ma che ti vuoi far ammazzare? Ti vuoi sempre dichiarare! Otto compagno di caccia! Ha capito? Sa che lei gli somiglia tanto... A suo padre? Ooooooooh! Ooooooooh! Grazie a tutti.